Alla fine l'impresa forse anche lei lo sapeva che era molto complicata, però alla soddisfazione di aver dimostrato che il Brighton dell'Olimpico non è quello che in realtà è realmente e non è quello che abbiamo visto oggi, ha questa soddisfazione? La soddisfazione di aver visto una squadra che ha orgoglio, e lo sapevo, perché bisogna ricordarsi quello che ho detto dopo il 4-0 all'Olimpico che era per me, per noi una sconfitta pesantissima, avevo detto che in quel giorno volevo ancora più bene i miei giocatori, perché li conosco bene, so che hanno queste reazioni, so che sono persone speciali perché antepongono all'aspetto tattico, tecnico, fisico, antepongono l'orgoglio, antepongono i valori che vanno oltre sport e il calcio perché erano feriti profondamente dalla partita di Roma perché avevamo raggiunto questo traguardo inaspettato con grande sacrificio e quindi hanno voluto fare una partita di questo tipo e quindi sono molto orgoglioso, ho visto tanti Roberto in campo, mi hanno rispecchiato perché anche io ho sofferto per questa sconfitta della settimana scorsa, però non dovevamo dimostrare niente perché il Brighton è questo, è sempre stato questo. The question was from Rai, asking whether you knew before the game that it was going to be a very difficult result to overturn, but you showed that the Brighton that we saw, the Olympico, was not the real Brighton, as you said, so are you satisfied with your team's performance today? Yes, we saw our team play with pride today, I knew that they could play with pride. As I said after the game when we lost 4-0, which was a big defeat, that I love my players even more. I knew my players were capable of responding this way because they are special people, the people who put their pride before other factors, before the sport, before any physical or tactical characteristics, they play with pride and they were really hurting after our loss to Roma, as I was. So what we have achieved this season and going so far in Europa League is an unexpected result. So I think we should be even prouder of that. And I was especially proud because today I saw lots of Robertos on the pitch and I suffered as well as they did last week. And today we saw the real Brighton. Roberto, you've had a taste of European football with Brighton. How hungry are you to do it again and how confident are you that it can happen off the of tonight's performance? Looking ahead. I believe in my players and I know we can fight to reach another historical target. We're going to play ten games. Maybe only two weeks we will play three games. But we will play one game per week. We can prepare for our best every game. I hope we can play with Joe Pedro and James Miller because March, Jack Indeswood and Mitoma, they can't play until the end of the season. and we try to reach another season in a row, the European competition. Sorry, which two players did you mention? Pedro and James Miller and Jack Indeswood. I am confident we can fight again. He spoke in English. It's more difficult your job than my job. Scusa, perché una domanda in inglese, uno in italiano, lei risponde in una lingua, poi chi non l'altro? Allora, volete la traduzione in italiano? Sì, possiamo lottare di nuovo per andare in Europa e raggiungere di nuovo questo traguardo storico che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo altri dieci partite da giocare, però adesso cambio perché giochiamo una volta la settimana invece di due volte la settimana. Abbiamo il tempo di preparare bene ogni partita al nostro meglio. Spero di riavere presto Joe Pedro e Ineswood invece sarà fuori per la stagione. Volevo sapere se ci puoi raccontare un po' che cosa c'era in quella chiacchierata che ti sei fatto con Daniele mentre la partita era ancora in corso, perché è una scena insomma non troppo consueta sui campi di calcio da due allenatori che stanno... Guarda, io durante le partite sono sempre me stesso. Non perdo mai la... Oggi volevo vincere 8 a 0, non 5 a 0, ma Daniele De Rossi era un mio amico prima. Durante e dopo la partita. E quindi anche durante la partita non vado in trance da dimenticarmi gli amici. E quindi lui è un mio amico sia quando siamo fuori dal campo, dal calcio... E io l'amicizia la reputo così. Quindi tra me e lui... Quando uno mi amico io non vado mai in competizione. Poi voglio vincere ma non sento quella cattiveria agonistica. La sentivo oggi ma non con Daniele. Quindi potevamo vedere la partita anche nella stessa panchina e non cambiava niente. Grazie. 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 Ciao mister. Valentino Ballarini, Sport Italia. Ciao. Stai valorizzando un giocatore che noi di Sport Italia abbiamo conosciuto da poco per la Coppa d'Africa, che è ad Ingra, che l'ha vinta con la Costa d'Avorio e è stato decisivo. Ha un potenziale pazzesco, poi visto dal vivo è incredibile. Oggi gli hai invertito la fascia rispetto all'andata, poi hai ricambiato ancora nel secondo tempo. Hai provato a sorprendere anche così la Roma? No, faceva fatica un po' Ansufati a sinistra e da quell'altra parte ad Ingra, piede su piede, a me piacciono le punte esterne col piede invertito per venire dentro, per liberare la sovrapposizione. come il terzino o la mezzale, in quel caso nel secondo tempo c'era Pascal Gross. Sì, sono d'accordo sulle qualità di ad Ingra. Dovete considerare che ad Ingra inizia la stagione come alternativa, perché da una parte c'era Mitoma, dall'altra Marche. E quindi si è trovato a giocare dal campionato belga alla Premier League tutte le partite, 90 minuti. quindi qualche volta può essere anche un po' non lucido, no? Un po' stanco, un po' approssimativo nel controllo, nell'ultima decisione, però rimane un giocatore di grande valore. Grazie. 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 Grazie A破 과 è stata una stagione storica per il Brighton in Europa League come hai detto più volte qual è la lezione più importante che secondo te avete imparato sia tu come allenatore che il club in questa prima esperienza ognuno pensa a se stesso poi quello che deve migliorare e quello che non deve migliorare il club penserà a se stesso e io penso a quelli che sono stati gli errori che tornassi indietro non rifarei però credo che abbiamo avuto una stagione molto difficile con troppi infortunati perché chiaramente oggi noi abbiamo fatto una grande partita ma la Roma era senza Lukaku e Dybala e voi pensate a togliere Lukaku, Dybala, Paredes, Cristante Mancini magari 6, 7, 8 infortunati ogni partita da ottobre a marzo a una squadra che non è neanche abituata a fare queste competizioni quindi io credo che stiamo facendo meglio dall'anno scorso poi giustamente voi guardate le classifiche e guardate tutte queste cose quindi avete altri parametri io credo che abbiamo fatto bene vediamo se riusciremo a raggiungere un'altra volta un traguardo importante e poi l'anno prossimo perché ci sarà ci penserà di come migliorare questa stagione questa stagione è stata un'altra volta di Mancini, Cristante o altri altri per un'ottima volta di ottobre a marzo come abbiamo già per così tanto quindi abbiamo fatto meglio di l'anno prima di l'anno You giornalisti tendo a vedere e assessi based on la legge position ma noi abbiamo visto altre cose e se ci troviamo in questa posizione next season we'll try to improve e do better in Europe Hi Roberta You've spoken in the past about how much the Wembley FA Cup semi-final defeat hurt against Manchester United and that it took you a while to get over that I'm just wondering how that compares with the first leg against Roma do they hurt in different ways will one hurt more than the other There are different games against Man United we played very well similar today but in Roma in Roma we played not as a Brighton we we didn't play enough to compete we created six chances to score but the feeling on the pitch wasn't the normal Brighton and I'm sorry for it I think in the future we feel a regret because we lost against Roma in 180 minutes but in the first 90 minutes we didn't play and other regrets can be to think we played without Mitoma without March because if I think the last summer I thought to compete in different ways in Europe in different ways in Premier League as well and I disappointed for it So the answer was yes we played against Manchester United in an excellent way maybe similar to what we played today against Roma we didn't play against Brighton in the first game we didn't play with them we created 6 occasions but we didn't play that feeling in the field so we didn't play in Brighton and this I'm sorry we played against Roma in 180 minutes but in the first 90 minutes we didn't play so another regret that we had to to play without Mid-Home and March for a long time and when I thought last summer I thought that we could play in a different way in Europe and in Premier League and this I'm sorry I'm sorry thank you thank you thank you let's see Grazie.